preparatevi con me, diamo un tono a questa faccia, parliamo di sport come già sapete io è da un mesetto che ho abbandonato lo sport, ahimè una mano in cuore è controvoglia, però a volte bisogna ascoltare il proprio corpo e fare delle cose che non ci va di fare, però che sappiamo che ci fanno bene insomma è da un mesetto che non faccio più sport, inizio a mancarmi davvero tantissimo mentalmente e fisicamente e scientificamente ho provato che fare sport aiuti durante tutto il corso della gravidanza, inserisco sempre il disclaimer se non avete particolari impedimenti e se il vostro medico non vi ha consigliato di stare a riposo fatelo, perché arrivi alla fine che comunque sei ancora in forze e secondo me sono forze che poi servono, sia nel periodo finale che per il parto che per il postpartum, perché non dimentichiamoci che la gravidanza è un grande percorso che poi porta a qualcosa di ancora più grande e se vogliamo difficile a livello fisico e a livello psicologico io come sempre per la motivazione devo ringraziare Mike che mi ha seguito anche in questo periodo incredibile della mia vita con cui abbiamo fatto uscire tre allenamenti che trovate sempre sull'app di Mike Training anzi se ci capitate sull'app è uscito un nuovo allenamento di Ivana per l'inizio della gravidanza, ogni periodo, ogni trimestre ha un tipo di allenamento che è più adatto a quel momento, proprio perché il corpo cambia e anche le energie cambiano comunque vi consiglio di provarlo, vi lascio il link a tutti gli allenamenti trovate qua sulla storia, secondo me poi vi ringrazierete non nego che a questo punto le mie sensazioni sono da una parte impazienza di arrivare al grande giorno e di iniziare questa nuova avventura e dall'altra anche un po' di paura sana penso avendo fatto un movimento tutta la gravidanza devo dire che mi sento fiduciosa e soprattutto sto anche manifestando che le cose andranno molto bene perché comunque io mi sento bene magari non vuol dire niente ma magari vuol dire tutto per ora voglio concentrarmi su quello più avanti penseremo alle nuove sfide che ci aspettano perché il mio percorso con Nike continuerà anche nel postpartum shout out anche a un altro fedelissimo compagno di questo percorso tutta la linea prima man di Nike di questi tempi veramente non ho più idea di cosa mettermi letteralmente mi entrano tre cose in croce però anche durante tutta la gravidanza sono stati un tocca sana belli, comodi, funzionali sei sempre pronta a un piccolo workout casalingo insomma amici auguratemi buona fortuna se potete allenatevi allenatevi anche per me basta non dirlo ma quando ne riparleremo staremo affrontando tutta una nuova storia vado a fare colazione, ciao! no è una roba incredibile è un'opera d'arte io ormai non me ne rendo neanche più conto io ormai non me ne riparleremo Grazie a tutti.